Milano si conferma la città italiana dove la vita costa di più, lo afferma il Codacons, che ha elaborato un'indagine sul costo della vita delle principali città italiane, mettendo a confronto prezzi e tariffe di un paniere di beni e servizi che va dalla carne all'ortofrutta, passando per dentisti, parrucchieri e bar. L'indagine attesta che Milano si conferma la città italiana dove la vita costa di più, Napoli la più economica sul fronte della spesa alimentare, mentre Pescara risulta la più conveniente sul fronte delle tariffe dei servizi. I dati sono elaborati dal confronto sul costo della vita nelle principali città italiane. Per quanto riguarda il comparto alimentare, a Milano per mangiare occorre spendere in media il 47% in più rispetto a Napoli. Per l'acquisto di un paniere composto da ortofrutta, carne, pesce, pane eccetera, si spendono in media 99,24 euro contro i 67,58 di Napoli. Il costo della vita è estremamente diversificato sul territorio con le città del sud che risultano mediamente più economiche rispetto al nord Italia, spiega il presidente Carlo Rienzi. Prezzi e tariffe che appaiono tuttavia in continua evoluzione. Gli aumenti delle bollette di luce e gas stanno infatti determinando nelle ultime settimane rincari a cascata dei prezzi al dettaglio a causa dei maggiori costi in capo a imprese e attività che vengono inevitabilmente scaricati sui consumatori attraverso rialzi dei listini.